Vai Luca! Io faccio di scaramazzia, 30 secondi di video iniziale, poi basta, spengo. Faccio sempre 30 secondi, non riesco a fare il film a tutta la partita. Dai Maro! Ah si, scusi, scusi te. Rino! Il qua è più stretto eh! Il nonno, il nonno eh! Dai Maro! Sì, l'ha fatto piccolo, è sbagliato. Dai Roma! Dai Maro! Dai! E' la fra, vai dai! Bravo! Metti l'osso! Dai Maro! Grazie! Grazie!